Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il sindaco di Fano Seri, furioso con il deputato dei 5 Stelle Cecconi mi chieda scusa per le dichiarazioni rilasciate a Fano TV sull'ospedale Santa Croce Nelle colline di Monte Giove e al Beato Sante non si fermano i furti con scasso alle auto parcheggiate lungo la strada e spesso i danni sono ingenti Addio all'ex mulino Albani, la vecchia struttura verrà demolita e al suo posto sorgerà un nuovo supermercato con oltre 140 posti auto e una rotatoria Edizione baciata dal sole, quella di sapori e aromi d'autunno la vetrina dei prodotti della nostra terra che si tiene al comma di Rosciano di Fano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, buonasera a tutti i cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17 C'è Occhio alla Notizia Cominciamo questa sera a parlarvi di un'escalation di furti che negli ultimi tempi, nelle ultime settimane c'è nella nostra provincia e in particolare in due territori, in due zone particolari Il Beato Sante ma ancor di più le strade che portano all'eremo di Montegiove, sulle colline dell'entroterra Vediamo Nessun luogo viene risparmiato dai ladri Ogni occasione per fare bottino è una buona occasione Luoghi religiosi compresi Situazioni che si ripetono ultimamente anche dove prima era inimmaginabile che arrivassero a colpire i malavitosi Per impossessarsi poi di pochi spiccioli Obiettivo prediletto ultimamente le auto parcheggiate e lasciate per recarsi O sulla tomba del proprio caro oppure in luoghi poco trafficati come le strade di collina Siamo sulla strada che conduce all'eremo di Montegiove Come vedete qui in questo spiazzo, in questo crocevia, alle volte si lasciano le auto Perché da qui si può partire per una passeggiata in tutta tranquillità Ma questa, vedete, è una situazione di estremo pericolo per le auto Perché, vedete, in questo momento qui non c'è nessuno E sono un po' alla merced di malintenzionati che, come è accaduto, anche poco distante da qua Al parcheggio più a valle Arrivano, visionano e rompono i vetri per asportare quello che c'è all'interno delle auto Nel bagagliaio, se lasciamo le cose, loro evidentemente lo sanno E sfondano il vetro, lo rompono proprio alla ricerca di oggetti che noi lasciamo all'interno delle autovetture Vedete qua, poco distante, ci sono altre strade che si diramano da questo punto Tutte immerse nel verde e chiaramente una passeggiata di una mezz'oretta, tre quarti d'ora Purtroppo, alle volte, si può tramutare in un episodio spiacevole Si moltiplicano alla nostra redazione le segnalazioni di questo tipo Finestrini in frantumi per saccheggiare l'interno delle auto E' successo anche alla collina del Rosario, in orario serale e sempre vicino all'erimo di Montegiove Ed è successo sabato pomeriggio in un altro luogo di culto Il santuario del Beato Sante, a Mon Baroccio Dove sul calare della sera, la titolare del bar, nonché mamma del presidente provinciale delle proloco Damiano Bartoccetti Dopo una brevissima assenza al suo ritorno, ha trovato in fantumi il finestrino della sua auto Ed il portafoglio portato via, né più né meno come era venuto anche a Bellocchi qualche settimana dietro I tempi cambiano, le chiavi sull'uscio della porta non si possono più lasciare E' il malinconico commento dell'anziana signora che ringrazia contemporaneamente anche le persone Che poi, ritrovando il suo portafoglio lungo la strada, glielo hanno riportato Facciamo mente locale dunque, anche quando siamo rilassati Non lasciamo nulla a vista nelle nostre auto E men che meno pensiamo di metterlo al sicuro all'interno del portabagagli Ed allontanarci per una breve passeggiata Un'auto in sosta in un luogo appartato è un possibile obiettivo per i ladri Il commissariato di Peso Urbino ha denunciato in stato di libertà Un veterinario dirigente dell'Asur Marche Area Vasta 1 in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione e Servizi Veterinari Secondo le prove raccolte dagli uomini del commissariato coordinate dal dirigente Simone Pineschi Al termine di un'indagine durata oltre un anno riguardano oltre 100 capi di imputazione Vanno dal dilitto di truffa aggravata ai danni dell'ente di appartenenza alla falsità ideologica in atti pubblici e alla falsità materiale Le indagini partite da una segnalazione dei vertici del Dipartimento di Prevenzione hanno permesso di ricostruire Circa un anno e mezzo di condotte lavorative del pubblico ufficiale Sospettato di attestare interventi a seguito del ferimento della morte di animali In realtà mai effettuati ma di intascare comunque le relative indennità Massimo Seri dopo le dichiarazioni sull'ospedale rilasciate qui al nostro telegiornale Dall'onorevole Cecconi dei 5 Stelle chiede adesso le scuse ufficiali per i toni e le offese personali Di vedere il sindaco di Fano Seri che non è assolutamente in grado di favorire e di dare ai cittadini del nostro territorio un servizio pubblico adeguato E anzi dispiace ancora di più vedere che si inginocchia e si mette a Zerbino davanti a Ceriscioli e davanti a Ricci accontentandosi di alcune briciole Questo comportamento di Seri è non solo inadeguato ma soprattutto è lesivo nei confronti dei cittadini Proprio perché firma un protocollo in cui chiede le briciole La sferzante visione dei 5 Stelle di Fano sul protocollo d'intesa con Ceriscioli di Massimo Seri Illustrate dall'onorevole Cecconi e le considerazioni al vetriolo sulla sua persona Non sono state ben digerite dal sindaco di Fano che chiede scuse ufficiali da parte del parlamentare Grilino E rilancia invece la giustezza del suo operato Questi neoparlamentari probabilmente si sentono dei dio in terra In realtà sono dei servitori dei cittadini magari con dei lauti guadagni cosa che i sindaci non hanno Io mi auspico che ci siano delle scuse pubbliche perché non si può andare oltre In ogni caso io non permetto che mi si infanghi e si usino parole così forti nei miei confronti Detto questo io parlo di sostanza Allora come sindaco io tutelo gli interessi di questa città E forse come lo sto facendo io non l'ha mai fatto nessuno fino ad oggi Io sono l'unico che si è permesso di rimettere in gioco tutto quanto In alcuni momenti l'ho fatto anche da solo senza i miei compagni di viaggio anche della mia coalizione E senza l'opposizione che oltre a sventolare la bandiera per prendere qualche voto in più Nei momenti cruciali non sono stati a votare in determinati modi E le cose sappiamo come sono andate che da Fosso Signore l'ospedale si è spostato a Muraglia Bene con la mia battaglia in ogni caso sono riuscito a mantenere aperto l'ospedale E non parlo di altro parlo di ospedale Santa Croce che rimarrà a Fano 120 eventi, pista di pattinaggio di 400 metri quadrati a forma di cuore Un albero con 70.000 luci a led Proiezioni e animazioni a tema sulla facciata del Palazzo delle Poste in restauro E' questo il Natale di Pesolo da qui al 7 di gennaio Annunciato dal sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Antonello delle Noci L'accensione dell'albero avverrà sabato 25 novembre alle ore 18 Chi verrà detto Ricci verrà un centro che sta cambiando Via Pedrotti, Piazza Olivieri, Corso 11 Settembre, Via San Francesco hanno un volto differente Entro Natale contiamo di inaugurare la piazza della creatività tra Pescheria e Mengaroni E l'intervento su Piazzetta Mosca sarà in fase avanzata Nei prossimi mesi partiranno anche gli interventi sui grandi contenitori Insomma la manifestazione fa numeri importanti e si inserisce nella strategia territoriale Con Candela Candelare, i mercatini limitrofi, la Befana Urbagna Insomma grazie alla rete siamo una delle province più attive e attrattive per il Natale Dopo Trento e Bolzano Quest'anno, aggiunge ancora il sindaco di Pesaro Ricci, l'accensione sarà preceduta dalla Notte Bianca della Musica La città e il centro saranno in vasi di notte, venerdì 24 novembre nel giorno del Black Friday Ci aspettiamo presenze anche da fuori, sarà un weekend particolare Tutto il programma sarà disponibile sul sito peseroturismo.it Aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comune Il vecchio Molino Albani verrà abbattuto, al suo posto sorgerà un nuovo supermercato con oltre 140 posti auto e una rotatoria Lo snodo di scambio gomma treno della fermata delle corriere nei pressi della stazione ferroviaria di Fano Non è fruibile da parte degli automezzi in tutti gli stalli a disposizione Per le corriere che giungono da Pesaro e che si inseriscono nell'autostazione La svolta a sinistra comporta un ampio raggio di sterzata Che necessita del sacrificio di diversi stalli per consentire all'autista di effettuare la manovra corretta Tutto questo nella prima parte del 2018 presto finirà dato che un'ampia rotatoria in corrispondenza di Via Veneto Presto verrà realizzata come opera compensativa da parte della società Che realizzerà il nuovo prefabbricato che sarà la nuova sede dell'Eurospin E che permetterà agli autobus di inserirsi correttamente negli stalli Ma che porterà anche in dote un cospicuo numero di parcheggi Sì, la Giunta ha approvato nella seduta di giovedì il progetto attuativo, il piano attuativo dell'ex mulino Albani E lì verrà realizzato un cappannone commerciale che consentirà il trasloco di Eurospin da Via del Lavoro dove è oggi E però in questo progetto oltre ad avere questa attività commerciale nuova Che d'altro canto è il motore di questa trasformazione Sarà possibile avere diversi benefici pubblici Intanto un parcheggio ad uso pubblico di 144 posti auto E poi la realizzazione della rotatoria in asse con Via Vittorio Veneto Che questo è fondamentale perché riesce a funzionalizzare il nodo di scambio del trasporto pubblico Quello spetrale e faticente edificio è l'ex mulino Albani Che ora con la sua presenza degrada una zona di grande affluenza alle porte della città di Fano Entro la fine dell'anno sarà quindi abbattuto Una volta che verrà data la concessione edilizia alla ditta esecrutice dei lavori Oggi a Pesero si è insediato il nuovo prefetto Si tratta di Carla Ciancarilli che in mattinata ha rivolto il suo saluto a tutta la popolazione di questa provincia Alle autorità civili e religiose e militari Agli amministratori degli antilocali Alla magistratura Alle forze dell'ordine Alle organizzazioni politiche, economiche e sociali E dagli organi di informazione Per il nuovo prefetto è stata una giornata densa di appuntamenti ed incontri Con varie realtà locali Durante le quali ha rivolto un pensiero anche ai giovani e al mondo del volontariato L'opposizione di centrodestra a Fano Continua a discutere sul documento che regola gli arredi urbani in centro storico Nell'ultimo consiglio comunale ha votato no E oggi ha spiegato alla stampa il motivo di questa scelta Allora io credo che questa maggioranza non si sia resa conto di quello che ha fatto Approvando questo regolamento che praticamente obbliga tutti gli esercenti e commercianti del centro storico A modernarsi con delle strutture nuove Quando invece il nostro centro è bello perché è caratteristico Quindi ognuno ha il proprio tavolino, la propria sede, la propria tenda Con questo regolamento di fatto oltre ad essere succubi dei tecnici e quindi della sovrintendenza Andiamo addirittura a dire quali tavolini e quali sedie dovranno mettere Addirittura con un regolamento blindato questa maggioranza va a svilire tutto il centro storico E a impegnare anche economicamente tutti gli esercenti e commercianti Quindi noi chiediamo immediatamente il ritiro di questa delibera, di questo regolamento Con le modifiche necessarie A dire la verità abbiamo provato a fare nove emendamenti a questa delibera Perché oltre appunto a vincolarli, a comprare questi tavolini A dire la verità dovrebbero chiedere loro un parere alla sovrintendenza Che potrebbe bocciare eventuali tavolini o sedie diverse Quindi con un iter molto più lungo e anche complesso Abbiamo provato a emendare questo regolamento perché ci sono anche delle norme Del cosice della strada che prima non c'erano Quindi comunque sia il regolamento precedente aveva delle maglie molto più larghe Ecco con questo regolamento rischiamo di far chiudere molte attività del centro storico Perché nel centro storico i veicoli possono girare liberamente Quindi ci sono anche delle regole che in teoria dovrebbero rispettare Ecco noi abbiamo provato a cassare queste norme Perché di fatto non devono essere all'interno di un regolamento Che deve dare delle linee di indirizzo dei principi generali Ecco questa maggioranza sorda e anche incompetente mi viene da dire Ha blindato questo regolamento perché noi chiediamo immediatamente di revocarlo Altrimenti mettiamo a dura prova tutti gli esercizi commerciali del nostro centro storico Ecco per questo noi chiederemo anche un incontro con i commercianti Come consiglieri di opposizione Perché vogliamo spiegargli quali sono le motivazioni del nostro diniego Che non è solo politico ma anche pratico Cioè va anche incontro alle loro esigenze Vogliamo incontrarli per spiegarli perché ci aiutino a far abrogare questo regolamento E a magari ripresentarne uno condiviso con tutti i commercianti Che possa far crescere la nostra città e i nostri commercianti Perché in questo momento viene a mancare completamente la libertà di impresa con questo regolamento Cioè viene negata la libertà di impresa per cui tutti devono essere uguali Se uno fa gli aperitivi alla sera e un altro fa le colazioni alla mattina Devono avere gli stessi arredi Cosa che oggettivamente è impossibile Il sindaco di Pesaro Ricci bloccato su Facebook Ha segnalato sul social network la vergogna della svastica sulla scuola intitolata d'Anna Franca Il social network lo ha bloccato per alcune ore E' quanto capitato appunto al sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che poi su Twitter ha espresso tutta la sua incredulità Ormai è un appuntamento consolidato E per questo richiama centinaia di visitatori provenienti da mezza provincia Stiamo parlando della vetrina dedicata ai sapori e ai prodotti dell'autunno Con oltre cento espositori sotto il campiente ombrello del Codma di Rosciano Sapori ed aromi d'autunno segna il suo record personale Norcineria di qualità, produttori locali agroalimentari, tartufi, funghi, carni selezionate Nessun aspetto dell'autunno è stato trascurato Compresa la frutta di stagione ed un altro figlio dell'autunno L'olio extravergine di qualità Dove quest'anno dopo due anni terribili Finalmente i produttori si riprendono una bella rivincita Imbottigliando un prodotto che non si vedeva da un pezzo Soddisfazione e tanta voglia di fare sempre di più Ancora immutata dopo 30 anni di manifestazione Da parte degli organizzatori Che allora quasi ragazzini dietro la chiesa di Cucurano Diedero inizio quasi per scherzo a questo evento Con questo evento che si ripropone ogni anno Da 30 anni a questa parte È un'occasione per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze Il nostro valore aggiunto che esprime questo territorio, queste terre Un brand è quello di sapori e aromi d'autunno Più imitato in assoluto Un po' come la settimana enigmistica Ma che sta a significare quanto questa formula di rapporto diretto Produttore-consumatore piace al pubblico Tantissime, le aziende che ci sono qua Oltre 100 aziende quest'anno Oltre 100 espositori Ma in sapori d'autunno è nato nell'arco di 30 anni Di tutto, di più Se ci pensa solo che è uno dei marchi più copiati in Italia Sapori e aromi d'autunno Periodo oltremodo azzeccato Questo per la manifestazione Che grazie a questo propone così L'apice dei prodotti autunnali Ma che traghetta anche i consumatori verso le iniziative invernali legate anche al Natale Possiamo dire che dal primo di ottobre al 6 gennaio Questo è un territorio molto vivace, molto ricco Molto attraente dal punto di vista turistico E che fa registrare il tutto eserito negli alberghi anche nelle prossime settimane Vuol dire che il lavoro che è stato fatto, che si sta facendo Anche con il sostegno ovvio della Regione Marche È un lavoro molto positivo E grazie anche ai volontari che portano avanti queste belle iniziative Quindi un'occasione di promozione dell'agroalimentare Della nostra agricoltura, dei prodotti di qualità Ma un'occasione anche di valorizzazione turistica come giusto che sia Donazioni in rosa al centro trasfusionale del Santa Croce di Fano E porte aperte all'Avis alla ricerca di nuovi donatori Allora il 29 sarà un giorno importante per l'Avis ma non solo per tutti gli aviscini Esatto perché novembre è il mese della donazione in rosa quindi dedicato alla donna E per la giornata di mercoledì 29 novembre oltre a essere il Donor Day E quindi la possibilità per tutti i donatori di donare sia la mattina che il pomeriggio Avremo anche l'Open Day Questo significa che tutti i donatori e speriamo ecco le donne Appunto perché è dedicato alla donna Possono venire al centro trasfusionale e anche in sede Avis Che si trova in via San Francesco 53 davanti al comune Per poter avvicinarsi al mondo della donazione del sangue Quindi un modo come un altro per poter richiedere tutte le informazioni di cui hanno bisogno E quindi visitare quello che è il nostro mondo ecco Ci saranno anche dei medici vi state attrezzando anche per qualche servizio in più da dare a chi viene in quel giorno Esatto sia al trasfusionale ovviamente saranno presenti i medici del trasfusionale Per i colloqui quindi aspettiamo anche tutte le aspiranti donatrici Per poter eseguire le analisi di donità E in più anche in sede ci stiamo attrezzando proprio per dare la possibilità a chiunque voglia venirci a trovare Di avere un servizio in più quindi misurazione della pressione E poi ci stiamo attrezzando anche per la misurazione della glicemia e del colesterolo Allora voi siete il punto di impatto Appena arrivano i donatori trovano voi col vostro sorriso Insomma almeno a loro agio cercate di metterli È la prima cosa che facciamo infatti cerchiamo proprio di... questo è il nostro lavoro E ci piace proprio metterli a loro agio e non farli pensare a tante cose Anche l'aspirante lì poi ce lo coccoliamo, ce lo accapparriamo proprio per poterlo far diventare donatore Ci saranno delle sorprese, avremo dei regali e ci sarà un piccolo buffet offerto E in più anche in sede potrebbe essere una bella cosa venire a visitare la nostra sede E poter poi avere tutti i servizi che saranno presenti lì quella mattina Allora per gli amanti delle commedie dialettali vi segnaliamo questa sera e anche domani Al Politeama di Fano con inizio alle ore 21 Una commedia messa in scena dalla compagnia teatrale Yervans Che presenteranno il loro ultimo lavoro che si intitola Alla faccia dell'ospitalità Che tradotto in italiano dal fanese è Alla faccia dell'ospitalità Bene, adesso c'è lo sport con Matteo Del Vecchio Grazie Marco, buonasera a te e ai telespettatori di Fano TV È dedicata al calcio come sempre la copertina di questa pagina sportiva Che purtroppo ormai da diverse settimane si apre con la sconfitta dell'Alma Battuta anche ieri in campionato dal Sud Tirol Piove sul bagnato in casa Alma Juventus Fano Che perde la nonna partita in stagione La seconda con alla guida Oscar Brevi E perde anche pezzi di staff e dirigenza Il presidente Claudio Gabellini è infatti deciso di sollevare dall'incarico Il direttore sportivo Menegatti e l'allenatore in seconda Scardovi Due decisioni prese al termine di una partita dove i Granata Ci hanno messo del loro per complicarsi la vita A conferma del periodo negativo della squadra sotto ogni aspetto I primi segnali di una domenica nefasta già dopo 40 secondi Quando Filippini non riesce a portare a compimento uno strepitoso a solo Che poteva sicuramente mettere la gara su binari diversi A far prendere alla gara la direzione dell'Alto Adige Ci pensa invece l'ex vispesaro Costantino Che al diciottesimo viene lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area E capitalizza l'assist di Cia L'Alma accusa il colpo e tra il ventitreesimo e il trentaseiesimo Il Sud Tirol potrebbe segnare ancora Ma in tutte e tre le circostanze Gli ospiti sono imprecisi o trovano sulla loro strada un attento Miori Poche emozioni nella ripresa Almeno fino al mega recupero quando succede praticamente di tutto Al quarantasettesimo il Fano reclama un rigore Ma per l'attaccante germinale arriva invece il giallo per simulazione Al cinquantaduesimo il portiere fanese Miori In veste di attaccante aggiunto su calcio d'angolo per i Granata È costretto a tornare frettolosamente tra i propri pali Compiendo un intervento prodigioso che evita il 2-0 L'ultima emozione del match Quella che avrebbe potuto dare alla sfida Una chiave di lettura completamente opposta Arriva all'ultimo giro di lancette Quando l'arbitro Ricci di Firenze Concede un rigore all'alma per fallo di Vineto su Fioretti Dal dischetto però Germinale si fa ipnotizzare da Offredi E così oltre ai tre fischi del direttore di gara Nel finale arrivano anche quelli dei tifosi Che vedono purtroppo la loro squadra Sempre più ultima e incapace di reagire Quattro i punti che al momento separano Il Granata da Sant'Arcangelo e Ravenna E bel nove quelli che dividono i ragazzi di Brevi Dalla salvezza diretta Una salvezza che passa anche dalla sfida di venerdì prossimo In trasferta sul campo del Mestre Ieri Corsaro per 2-1 a Vicenza E da un fano ultimo in classifica Passiamo invece ad uno che continua a guardare tutti dall'alto al basso Stiamo parlando del Flaminia Nel campionato femminile di A2 di calcio A5 Grazie alla tripletta di Sara Berti E ad una prova maiuscola di tutto l'organico Le ragazze di Alessandra Imbriani Espugnano il campo del Real Fenice per 3-1 Consolidando il primato in classifica dopo sette giornate Succede tutto nella ripresa Mestre Con le fanesi che si rendono anche protagoniste Di un bel momento di fair play Facendo volontariamente segnare un gol alle avversarie Dopo che in precedenza la stessa Berti Era andata in rete Non accorgendosi di un'avversaria stesa a terra Applausi da tutto il Palasport per questo bel gesto E Flaminia che rimpingue il bottino nel finale Rendendo così meno triste il post partita Passato in ospedale a dar conforto a Claudia Giovannelli Uscita dal parquet in ambulanza A causa di una lesione al ginocchio Risultata poi meno grave del previsto In Serie B maschile invece Quinto risultato utile consecutivo per l'età beta Che impatta in casa per 2-2 contro il Fuzz Alcoba Grazie alle reti di Ettai e Bei Che rendono vano il doppio vantaggio ospite Ottima la prestazione dei Granata Sabato in un inedito completo bianco Capaci di recuperare al doppio svantaggio E sfiorare in più di un'occasione la vittoria Grazie al punto conquistato I ragazzi del patron Serafini Salgono a quota 10 in classifica In piena zona playoff A più 3 sui Cugini dell'Alma Ieri fermi ai Vox per il turno di riposo E chi non accenna a fermarsi È invece la Giban Virtus Che ieri nel campionato di volley di Serie B Ha centrato la quarta vittoria consecutiva Ancora un successo davanti al proprio pubblico Per i ragazzi di Mister Radici Che conquistano i tre punti a spese del Foligno E si proiettano al quarto posto in classifica Contrariamente a quanto fatto Nelle tre vittorie precedenti Partono subito forte i fanesi Vincendo il primo set per 25-18 Gli Umbri si rifanno sotto nel secondo Strappato per 26-24 Ma poi escono alla distanza i vari Lucconi, Maier, Stoico e Paoloni Che consentono ai padroni di casa Di vincere il terzo parziale per 25-21 E il quarto per 25-22 Con dedica speciale per il compagno di squadra Spinelli Costretto a dare forfè per infortunio A pochi secondi dal fischio d'inizio E apriamo ora una piccola parentesi Legata agli appuntamenti Per segnalarvene uno in programma Fano Il prossimo weekend Si trasformerà in capitale italiana degli scacchi La città della fortuna dal 24 al 26 novembre Con la settima Yacht Rapid Cup In programma al porto turistico Marina dei Cesari Ed organizzata dal circolo scacchi Fano In calendario sono previsti tornei open Amatoriali e giovanili E per l'occasione sarà ospite al Palagei Il maestro georgiano Badur Giobava Medaglia d'oro olimpica nel 2016 In prima scacchiera E campione europeo individuale nel 2017 E prima dei saluti Questa sera vi vogliamo mostrare delle immagini Che ci arrivano direttamente da Vico Pisano In provincia di Pisa Lo scorso weekend al Palasport locale Si sono svolte le fasi finali Del campionato italiano di Strongman Disciplina che testa la forza degli atleti Attraverso varie prove di sollevamento pesi A laurearsi campione italiano Nella categoria principale Ovvero la Pro Open Class E' stato il fanese Raffaele Lotito Del team Bunker 48 Complimenti dunque a Lotito Per questo importante risultato raggiunto Io come faccio sempre Prima dei saluti Vi ricordo l'indirizzo mail Al quale poter inviare le vostre segnalazioni Che è sport Si riguarda Valentino Rossi Che ha detto Ho paura di fermarmi Perché sarà difficile trovare qualcos'altro La MotoGP è tutta la mia vita Dirigere l'Academy sarà bello e divertente Ma non è la stessa cosa La soglia dei 39 anni Valentino Rossi li compierà il prossimo 16 febbraio Il campione di moto Confessa i suoi sentimenti Di fronte all'idea dell'addio Conversando con il settimanale tedesco Speed Week Allora prima di salutarci Vi ricordo che mercoledì Questo studio alle ore 21 Dopo il telegiornale Ci sarà di nuovo primo cittadino Questa volta con il sindaco di Fano Massimo Seri Per intervenire in diretta Potete chiamare lo 0721 86 14 33 Le telefonate come sempre Vi ricordo hanno la precedenza Sui messaggi Messaggi che potete inviarci Con sms o whatsapp Al 338 49 68 250 Allora dopo di noi c'è Box I protagonisti di Fano Poi in cucina con lo chef E uno speciale sul centro giardinaggio Pellegrini di Sant'Elpidio a Mare E la sua offerta dedicata al Natale L'informazione finisce qui Noi ci rivediamo domani mattina Alle 7.30 in diretta Puntuali con la rassegna stampa Occhio ai giornali Arrivederci Puntuali con la rassegna stampa Puntuali con la rassegna stampa Puntuali con la rassegna stampa Puntuali con la rassegna stampa